Ip! Il virtuosismo Della maniera Che la scelta di vedere? No, non vedete Puoi vedere? Che è questo? Camorino, ero Congrati... Congrati appunto da voi Brava Pimpi lo sta aiutando a riempire i polletti di miele E invece Que il segno Si è stato un rischio Il giudice Che Pagliare